Shackalakaboom ragazzi, eccoci con Crysis, subito, non perdiamoci il video. Il mondo intero. Eccoci ragazzi, siamo noi. Se ricordate Crysis 2, il cielo alfa è quello lì, ormai che noi credevamo di aver ucciso. Pure energy for everyone. Ma che cazzo ci fa un autobus nello spazio? Una gita sulla luna. Tacca-tà, tacca-tà. Cosa mi guida? In cosa credo? Che essere un buon soldato si riduce a una cosa sola. A una sola domanda. Cosa sei pronto a sacrificare? Ricordatemi. Oh Cristo. Quando vennero da me con la nanotuta, sacrificai Lawrence Barnes, l'uomo che ero, per diventare prophet. Forse è la migliore macchina da guerra tattica che sia mai esistita. Quando la mia carne e il mio sangue divennero un ostacolo, sacrificai anche loro. Li sostituì come un pezzo di ricambio. La nanotuta. La vittoria ha un prezzo. Il prezzo aumenta ogni volta. Ragazzi che dettagli però eh. Guardatele, cioè ammiratele. Questo è disponibile anche in 3D. Figuratevi. Io ho intravisto il futuro. E io non potevo impedirlo in nessun modo. Eccoli i saluti. Quando la macchina da guerra più potente fallisce, che cosa facciamo? Ci masturbiamo? Cosa devo fare io? Cosa devo fare io? Crisis. Troi. Noi. Allora, vediamo un po'. Vedi già adesso subito, i dettagli sono incredibili ragazzi. Veramente la... La... Come cazzo si chiama? La Crying Giant 3 con la nuova tecnologia. Questa Crying Giant 3 fa veramente... Fa venire i brividi. Sto eiaculando. Eiaculando letteralmente e anche realmente. No vabbè quello no, che schifo. Ok, il primo cadavere. Come on bitches. Boom. Mordo. Uno in meno. Quattro minuti da video. Ma che cosa è disattivata? Uh, questo me lo ricordo. Boom, marco. Ah, qua ci siamo noi. Mi sa che ci volevano strappare la tuta di dosso. E ricordo che fa un male cane. Ah, ok, poi entriamo in gioco noi, finalmente. Posto umano. Trentissimo ingresso over to the Liberty Dome, New York. Ok, ci sono. Ok, sto giù. Come on, come on, come on. Vediamo un po', prendiamo i comandi con... La nano tuta, vediamo un po'. Aiuto. I am sopra Mario. Mirare. Salto. Corre. Sta scoppiando una guerra. L'occultamento. Una figata assurda. Inizio che ti hanno scaricato addosso i cable. Beh, diciamo, guardate che dettagli, signori incredibili. Vi faccio ancora mirare. Ci dettagli diamo patatopo. Dai, dai, muviti pelato di merda. Avriamo il database. Andiamo un po' solo per, ok, via. Ah, sì, sì. Ho fatto il tutorial. Si può fare anche questo, ragazzi, guardate. Modificare l'arma direttamente in gioco. È una cosa... Mitica. Quindi mettete il mirino, il silenziatore... E procediamo, mettiamo. Corriamo, corriamo, corriamo. I am Super Mario. What are you doing here? Ta, ta, ta. Mi misura... La nanovisione, però. Dai, apri sta porta. Stiamo entrando dalla porta principale. Dobbiamo puntare sull'effetto sorpresa. Nessuno è abbastanza folle da fare una cosa del genere. Ok, hai ragione. Premi al tirore 2 per att... Facciamo piano. Hanno le squadre di una percorra più fronte. Ciao, bel bambino. Ho ucciso Cell, Goku! Ok. BARRELS! What are you doing here, BARRELS?! Get a fuck you out! Mmm... Adesso è un casino. D'annato minitron laser, secondo me lo dobbiamo togliere. Perfetto. Sbarco tuta in corso. Sbarco tuta in corso. Occultamente attivo. Dun 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 dun. Ucciso uno due furtivamente, Grah. Ricarichiamo un attimo l'energia. Who is? Nice. Mmm... Allora ragazzi, questa è la via... Cazzo, quello se ci vede siamo fottuti come... Popo come il budello. Occultamento attivo. Piano. Avete sentito? Vai, vai! Io non ti copro! Ok. Mi sa che ci hanno individuato. I am Super Mario. No, no, no. Corri, 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 corri. Muoviti, pelato di merda! Una turbina! BARRELS! What are you doing here?! Tu ci hai fatto scoprire, vai via! Cazzo, dove dobbiamo andare? Ah, giù, 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 giù. BARRELS! 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 Ok. Occultamento attivo. Via, 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 via. 9 minuti. 9 minuti di gameplay vanno bene. Vabbè, aumentiamo. Un po' troppo rumoroso. È molto meglio questa. Che cos'è? Che cos'è? Ah, ragazzi. Adesso si inizia... Si inizia a ragionare. Sarai una macchina... Bucchiamo qualche... Bulbo oculare. Ti piace? No! A me sì! Non hai sentito la parte migliore? L'arco è connesso alla tuta con laser al carbonio. Ha tanta energia cinetica da battere un rinoceronte. Con le punte intercambiare. Porca di quella troia. Esplosiva su qualsiasi bersaglio. E soprattutto, resti occultato. Ora ti piace. Va già meglio. A me mi piace un casino. Mi fa iaculare anche questa cosa. Sono venuto circa due volte in questo gameplay. Grande, grande, grande. Get a fuck ya! BARRELS! Romeo 1, abbiamo raggiunto Pox Trot 4. Esplosione pronta, basta. BARRELS! BARRELS everywhere! Oh no 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 no, Barros everywhere. Another kill Ok, metto Oh shit, shit, shit Oh no, energia, energia scarsa qui dietro, qui dietro, qui dietro, qui dietro, ok Giusto, giusto Non succede niente Ok Boom A chi sparate, minchioni Boh, si sparano alle mignotte Allora Tutto occultato, mi piace tanto, tanto, tanto Che stanno questi bastardi Allora Aha Vediamo quanto è efficace questo Boom Boom Headshot Dove ti nascondi, piccolo maiale Boom, headshot Mostrati Boom, headshot L'energia scarsa Minaccia sempre in giallo Ragazzi, è un gioco spettacolare Spettacolare proprio, soprattutto per questo fatto dell'arco Ridami Non mi troverete mai Ai, 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 oh caccia I am super mario Guarda aria Lui Morto Oh, ma dove sta? Ma dove state? Porcellini Ma dove cazzo sta? Eh Bastardo Oh, cazzo Aia, aia, aia Uh, dietro Ma dove sta? Eccolo quel basso Oh, cazzo Oh, cazzo Dove stai? Maialino ingordo Eccolo qua Uno sta là Ma non li vedo, cazzo No, quello è il mio amico Sta qua su Ma che merda Morto Ok, muoviamoci I am super mario Come on Freccia impact recuperata Come on, come on, come on, come on Let's go Siamo a 14 minuti Può andare ancora un po' Apri ti sesamo Messa c'è Oh, cazzo Ho sbagliato Dai, 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 dai Non perdiamo tempo Dai, pelato di merda Oh, cribbio, santolina Gesù Cristo I believe I can fly I believe I can touch the sky Sell Sell Get out here, sell Parals Allora, guardate questa, ragazzi È una vera chicca questa cosa Allora, aspetta Per violare Violeremo il sistema dei sell Ok, ingarrato Ok, ingarrato Apertura e porta Grande, grande, grande Nella merda Barals Nella merda Popo nulla Il nulla proprio, secondo me Dimmi che uno scherzo Avanti, Psycho Muoviamoci Fatti vedere in faccia Mi hai spaventato la mia Ora, fatti vedere in faccia Psycho Andiamo Dai, andiamo, andiamo Barals Barals Ti troverò, cazzo Lo sai Che quando ti strappano la suta Sei cosciente In molti Sono morti urlando Il loro cuore Non ha retto il dolore Sì, ma adesso dovremmo scappare Prima che ci facciano la stessa cosa Brutto, idiota, pezzente Ti piglio a pugni Ti piglio a pugni Ti do un cazzotto Un destro Un sinistro E cade K.O K.O I win I win Munizione Adanti Andiamo O si prende Larco Sul lato o che? Very interesting Allora, ricalizziamo tutti i bersagli prima Perfetto Perché prendi a pugni? Quello è morto Infatti è morto Un bel niente, cazzone Ricaricate l'energia Ma l'ha fatto a vedere sto porco Pongo solo due frecce Lo so Sono un genio I'm a genius I'm a genius Ma che schifo di arma è? Aiuto Dai, esci da lì fuori Oh, cazzo Madonna bella Già iniziano Boom Corazza massima Boom Marta Grande Via, via, via Apri Sesamo Come si apre? Qua Che merda Per violare, viola Viola Sono morto Cazzo ragazzi sono morto Che minchia Eccoci qua ragazzi Scusate ma Ero morto Quindi Merda Sono dovuto rifarlo Quindi Eccoci qua Abbiamo ucciso quelle guardie Adesso siamo qua Oh Tua madre A pecora Ha detto che non ti serve una muta Sta muta è fantastica E' un super mario E tra poco Quindi levando 6 minuti Come cazzo Si aprono Open this door Ok Come on Come on Beaches Usare C'è che poi Raggiutto Grande Procedi Ci vediamo più avanti Ok Ricevuto Ci muoviamo Amici Amici ovunque Quanto amo L'occultamento Meglio ricaricarlo Ok Altre persone Ce ne sono Un bel po' Minchia Un bel po' Tante L'avete sentito No Allora ragazzi Come vedete Il gameplay è abbastanza bello Qualcuno ha ucciso Uno dei noffri It's raping time Ma come violazione Io non ho fatto niente Va bene Crepa Che figata Ragazzi Super Mario Dove scappi Oh ma che fata Non morita Pezzente Falcon Falcon Punch Puff Proviamo un'altra arma Oh yes Scatto Dalla Usain Bolt Oh Apri Cazzo Che fucicino Adesso ne ho Procedo Alla prossima Area Check poi raggiunto Chi? Allora Vediamo un po' Uno Due Tre Facciamo questa Minchia Quanti Ce ne sono un bel po' Uccidiamo questo Nuova arma Nuova arma Minchia Sanno tutti Troppo lontani Ciao Oh cazzo Vieni qua Vieni qua Cazzo Cazzo Mi sono incastrato Allora Quello mi ha avvissato Quasi Vieni da Babbo Nachele Babbo Nachele Qui per te Sei morto Energia scherza Sento anche il coso Geiger Delle radiazioni Allora Ricarichiamo S'energia di merda E ci sono due No Sopra Mario Sopra Mario Ricarica 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 Ah per qua Ci sono quasi Ok Via 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 C'è che poi è raggiunto Dai apriti Sesam Morto Viola 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 Spara It's a rape Violiamo anche questa Vai spara Torretta Torrey Grande torrey You are only my friend Haha Dai 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 What the fuck Barrels Barrels What are you here Oh cazzo sei tu Oh che strage Infiltro primario Ok Mi sa che ci siamo ragazzi Abbiamo finito Abbiamo finito A me no Ah io non ti devo dire niente Si Mi ricordo Ok ragazzi Abbiamo finito Qui il primo walkthrough E Ricordate di iscrivervi Mettere mi piace Aggiungere a preferite Questo video Per Vederne ancora di più Ed essere pronti Per Ecco appunto Vedere altre uccisioni occultate Sventramenti Quindi Diventate Dei bro E iscrivetevi Shackalaka boom ragazzi E al prossimo video